Liberi.tv Riccardo Cristiano qui a Cosenza per il primo Pride Cosentino. Abbiamo praticamente l'esclusiva che fra poco vedrete, ovvero che la nota ditta Scintille consegnerà al Cosenza Pride offerta appunto questa targa dove è rappresentata la giornata. E poi io volevo anche dire, lo dico personalmente, siccome mi sono unito civilmente col mio compagno Marco Marchese che sta riprendendo in questo momento, ci siamo uniti il 27 maggio appunto un mesetto fa, noi le fedi le abbiamo comprate proprio da Scintille, quindi grazie, grazie. Come mai avete deciso di aderire? No, perché ritengo che sia una cosa giusta, ritengo che il mondo va verso questa direzione quindi è inutile chiudersi dentro, per l'amor di Dio. Mi fa piacere che avete scelto Cosè, che hanno scelto Cosenza per fare questa manifestazione e da Cosentino voglio testimoniare quello che è la nostra città, una città aperta, una città libera, una città aperta a tutti i gusti. Tra l'altro posso dire una cosa, siete stati probabilmente anche gli unici che avete creato colore, diciamo qui perché comunque Scintille è una realtà di colore e di varietà sotto tutti i punti di vista. Io devo dire che sono una cliente oltre che amica di Sergio Mazzuca, quindi posso semplicemente dire che la loro azienda è sempre stata attenta e quindi in difesa dei diritti, di tutti i diritti, di tutti i cittadini. Quindi Scintille e Cosenza saranno Scintille colorate? Certo, multicolor. Grazie mille. In bocca al lupo a tutti e complimenti. Grazie mille. Liberi TV Cosenza.